Ragazzi, se siete interessati a delle magliette super fighe, vi consiglio di visitare il sito di Pumpling e con il codice SOGAMER tutto in maiuscolo avrete lo sconto del 15% su ogni vostro acquisto, da maglietta, felpe, cover per il telefono e poster da appendere nella vostra camera Ogni giorno escono disegni nuovi, quindi fateci un salto ogni tanto Il link lo troverete nella descrizione del video Detto questo, buon proseguimento Allora ragazzi, ben ritrovato a vostro solo in questo nuovo video di Devil May Cry 5 Ci accingiamo alla fine di questa serie a quanto pare L'ultima volta il vincere è tornato, quindi vediamo se la prossima missione ci dobbiamo ammazzarlo Occhi Sicuramente andrà a scattista da parte E poi si setta, giusto E poi l'ho sbagliato pure a scrivere, non era Virgil, ma Vergil Dai che poi quella spada la diamo al nero Troppe Facciamoci bullizzare, dai Oh, no. 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 Oh, no.